Prime tracce di vita a Battipaglia all'età del rame. Questo è il titolo del convegno tenutosi ieri presso la scuola De Amicis nell'ambito di Battipaglia prima di Battipaglia. Iniziativa culturale che ha l'obiettivo di raccontare al pubblico i secoli di storia della città dal periodo neolitico fino all'arrivo dei romani. Si parla di scoperte importanti, di tracce rinvenute nel territorio di Battipaglia per comunicare, come vuol fare la mostra d'altra parte, ai cittadini di Battipaglia che il nostro territorio affonda radici antichissime ed è stato abitato fin da tempi molto remoti, sebbene sia un comune di relativa recente istituzione. Quali sono le zone più a densità di oggetti rinvenuti, ritrovate? Diciamo che per l'epoca protostorica si parla delle pendici del Castelluccio e lungo il fiume Tusciano che era una via di comunicazione sin dall'antichità, mentre per quanto riguarda l'epoca romana ci sono stati degli ultimi ritrovamenti anche nelle zone della pianura e quindi verso il mare, nella zona litoranea. Quindi far conoscere anche le nuove generazioni, il passato è sempre fondamentale? Esatto, conosciamo i nostri antenati, conosciamo il nostro passato per capire un po' il futuro e anche dove stiamo andando. Questa mostra si concluderà a novembre quindi c'è ancora un po' di tempo per invitare tutti a visitarla? Certo, per visitare la mostra e poi ci saranno altri due giovedì, due incontri importanti con la dottoressa Granese della Soprintendenza archeologica di Salerno e con la dottoressa Tomai che è direttrice del Museo archeologico nazionale di Ponte Cagnano. Sabato 10 novembre, a conclusione del ciclo di incontri, ci sarà la dottoressa Giovanna Scarano, direttrice del Museo archeologico nazionale di Eboli, il professor Ciambrone che è direttore del Museo d'Arte Moderna di Castelvolturno e la dottoressa Tommasa Schipani che ci illustrerà la melagrana storie, mite e leggende di questo frutto. Accorrete e vi aspettiamo. Grazie.